Buongiorno a tutti, allora Giubbino, Sergio Tacchini ma è quello che mi dicono che sembra un benzinaio perché dobbiamo parlare, scusate il ritardo ma ci sono state tante cose, poi io odio il Gran Premio di Monte Carlo, è più forte di me, non mi piace, sarà pieno di sorprese eccetera ma se non ci sono ti fai due maroni per 78 giri con la gente che si insegue e sta lì a inseguire, per 78 giri, al massimo si sorpassano sfruttando i Pistop eccetera o magari le Sefi di Car che vengono fuori. Comunque parte il Gran Premio di Monte Carlo, primo giro c'è un tentativo di Verstappen su Bottas in partenza ma niente di eclatante perché Bottas tiene giù il piedino e gli dice stai a cuccia e resta dietro. Quindi dopo il primo giro la classifica è più o meno quella della partenza a parte qualcuno che ha aperto nelle retrovie qualche posizione però abbiamo Hamilton primo, Bottas secondo, Bestaffen terzo, Vettel quarto, Ricciardo quinto, Magnussen sesto, Gasly settimo, Sainz ottavo, Chiat nono e Albon decimo. Dopo cinque giri da segnalare solo che le due Mercedes provano già leggerissimamente ma si fa per dire la fuga con Bottas che rimane comunque incollato ad Hamilton e gli altri a partire da Verstappen che cominciano a perdere terreno ma si fa per dire, siamo nell'ambito di pochi centesimi, pochi decimi. Diciamo che le due Mercedes hanno provato a fare l'andatura sull'1,16 qualche cosa, 1,16 alto non basso e gli altri erano intorno all'1,17 basso ma siamo questioni di quisquiglie. Intanto Leclerc riesce con un sorpasso pazzesco all'interno a sorpassare Grosjean e prendersi la dodicesima posizione ma comunque sta guidando a rischio massimo, sta cercando di recuperare dodicesimo e quindi adesso ha davanti Hulkenberg e infatti nel giro successivo prova anche a sorpassare Hulkenberg ma si toccano, lui si gira un attimino, Grosjean ne approfitta, lo risorpassa, ci prova anche Norris a sorpassarlo solo ruota a ruota ma alla fine Leclerc riesce a tenere la posizione ma purtroppo ha perso quella che faticosamente ha preso su Grosjean. Purtroppo nel proseguio la toccata gli è andata male perché foratura alla posteriore destra per Leclerc e quindi gara compromessa, vediamo se riesce intanto ad arrivare ai boss, ci arriva ma aveva praticamente il cerchione della posteriore destra, se non ricordo male, comunque era una delle due gomme posteriori che praticamente c'era solo il telaio, si vedeva praticamente tutto il cerchione, però deve uscire l'asse faticare quindi lui andando ai boss riesce comunque a recuperare e a evitare, era rientrato doppiato dietro le prime quattro, riesce a sdoppiarsi almeno a riportarsi dietro al gruppo, che gruppo contemporaneamente i primi quattro cominciano ad andare ai box a fare il cambio gomme e qui succede il patatrap perché praticamente cosa succede? La prima Mercedes va ai box, Bottas rallenta un attimino per permettere ai meccanici Mercedes, visto che era vicinissimo al al suo compagno di squadra, di fare il cambio gomme, intanto lui può entrare comodamente nei boss lasciando dietro gli altri che perdono a loro volta tempo, quindi fa il gioco del suo compagno, ma almeno non deve mettersi in coda ad aspettare che... Il problema è che lui arriva, la Ferrari e la Red Bull sono davanti a lui quando arrivano, quindi quando lui riparte, riparte praticamente prima della Ferrari, ma in contemporanea con Vettel e quindi cosa succede? Che i due si toccano perché Vettel è qua, lui si infila di qua e si toccano perché praticamente Vettel ha dovuto, tra virgolette, spostarsi di quel mezzo metro sull'esterno perché sennò probabilmente avrebbe preso dentro qualche meccanico delle squadre che erano messe sul lato e quindi si sono toccati. Adesso vedremo quello che succederà con i giudici, però staremo a vedere. Tra l'altro nella toccarsi, il giro successivo, Bottas si ferma nuovamente ai boss in regime di safety car, quindi dietro c'è tutti gli altri, quindi riesce a rientrare il boss, fare il cambio gomme, rientrare in pista e riportarsi comunque addosso ai primi quattro e tenere comunque la quarta posizione. Quindi al quindicesimo giro si riparte e la classifica è la seguente, Hamilton è primo, Bestaffen è secondo, Vettel è terzo, Bottas è quarto, Gasly è quinto, Sainz è sesto, Chiat è settimo, Albon è ottavo, Grosjean è nono e Norris è decimo. Intanto piovigina leggermente su Monte Carlo e c'è anche una toccata tra Giovinazzi e Kubica che ostacano uno gli altri, tra cui anche Leclerc. Poi Giovinazzi e Kubica riescono a rimettersi in pista, Leclerc sorpassa Giovinazzi ma il giro dopo deve lasciargli la posizione perché ha sorpassato in regime di bandierina gialla. Successivamente Leclerc mette gomma rossa per provare a recuperare sui suoi avversari ma sarà dubbillissima sia perché siamo solo al diciassettesimo giro dei 78 previsti, sia perché il fondo della sua vettura è messo veramente ma veramente male e infatti il giro successivo si ritira e contemporaneamente vengono combinati cinque secondi di penalità Max Verstappen per la toccata ai box con Bottas e visto che comunque Verstappen è attaccatissimo a Demington in seconda posizione ma a meno di un secondo o un secondo di distanza, l'uno con l'altro sia Vettel che Bottas ahimè il suo secondo posto vale un quarto posto perché togliendogli cinque secondi gli altri due sono a due secondi e mezzo globalmente di distacco mi sa che sarà durissima riuscire a stare sul podio. Intanto iniziano anche i pit stop degli altri piloti che non si erano ancora fermati e Sainz si prende un ottavo posto anche con il giro veloce visto che Hamilton sta girando molto da tassista e tiene dietro tutti. La classifica al trentacinquesimo giro vede al primo posto Hamilton, al secondo Verstappen, al terzo Vettel, al quarto Bottas, al quinto Albon, al sesto Grosjean, al settimo Gasly, all'ottavo Sainz, al nono Chiat e al decimo tiene sempre il decimo posto Nonnest. Siamo al cinquantesimo giro e la noia prosegue con tutti i piloti che si inseguono in fine indiana senza avere la possibilità di sorpassare. Intanto Hamilton comincia a lamentarsi che le condizioni delle gomme non sono propriamente il massimo. Intanto dopo 50 barra 51 giri, cioè per iniziare il cinquantesimo giro, va i boss Grosjean che ha utilizzato gomma rossa per ben 50 giri. Probabilmente sperava nella pioggia che aumentasse eccetera per andare a mettere le gomme da bagnato, le avrebbero dovute mettere tutti gli altri e avrebbe parificato i pistopa, anzi lui ne faceva uno solo, gli altri ne dovevano fare due. Però è andata male e quindi nello stesso tempo Gasly va ai boss per provare il giro veloce che gli riesce, sfiora anche il giro veloce della pista e quindi per Gasly un punticino extra a fine gran premio per il giro veloce che non fa neanche schifo. Comunque a otto giri dalla fine stavo dicendo Hamilton è primo, Bestafen è secondo, Vettel è terzo, Bottas è quarto, Gasly è quinto a 27 secondi da Bottas, Sainz è sesto a 15 secondi da Gasly, Chiat è settimo al buono ottavo, Grosjean è nono e Ricciardo è decimo. Dopo altri sei giri con tutti gli appiccicati a inseguirci, a inseguirsi scusate, c'è l'ultimo tentativo di Bestafen di sorpassare Hamilton praticamente all'uscita del tunnel, sapete che poi c'è quella, ci siamo capiti, quella specie di V che arrivi devi frenare, fare la curva, volendo vai dritto, puoi farlo una volta sola e poi sennò parte la penalità. Quindi praticamente è arrivato e si sono toccati a vicenda da gomma contro gomma, quindi l'anteriore, ecco per così praticamente, l'anteriore destra di Bestafen con la posteriore sinistra di Hamilton, quindi temevano addirittura una foratura anche perché Hamilton nella toccata è andato a toccare, proseguendo perché praticamente Bestafen gli si è quasi affiancato e si sono toccati anche con l'alettone, temevano nella foratura, invece probabilmente è stata una toccata parallela, non stata una toccata che la gomma è salita sull'alettone, eccetera, quindi si sono toccati, quindi per fortuna di Hamilton non c'è nessuna foratura, quindi riesce a proseguire, Bestafen ha rischiato il tutto per tutto ma non è, non gli è riuscito anche perché comunque ormai era un po' troppo tardi per riuscire a dare poi cinque secondi a tutti e riuscire a vincere il Gran Premio. Quindi a un giro dalla fine la classifica vede primo Hamilton, secondo Bestafen che però ha cinque secondi di penalità, terzo Vettel, quarto Bottas, quinto Gasly, sesto Sainz, settimo Chiat, ottavo Albon, nono Grosjan e decimo Ricciardo. Intanto anche Grosjan si è preso dieci secondi di penalità perché non ha rispettato la riga bianca nel pistope eccetera, ha sorpassato la riga bianca e quindi ahimè si prende dieci secondi di penalità e il suo non opposto è in very dangerous. Infatti la classifica finale vede primo Hamilton, secondo Vettel, terzo Bottas, quarto Bestafen appunto per la penalità di cinque secondi, quinto Gasly, sesto Sainz, settimo Chiat, ottavo Albon, nono Ricciardo che sfrutta i dieci secondi di penalità di Grosjan e solo per un secondo e mezzo gli riesce a stare davanti e decimo Grosjan che comunque alla fine della fiera riesce a portare a casa il suo punticino. Da segnalare appunto il punto supplettivo per Sainz che ha fatto il giro veloce. La classifica del mondiale vede Hamilton a 137 punti, Bottas a 120 quindi le due Mercedes già hanno fatto il vuoto, Vettel a 82 quindi oramai direi che il mondiale salvo miracoli se lo giocano Hamilton e Bottas con Hamilton avvantaggiato direi poi vedremo il proseguio. Vestafen a 78 quindi Vestafen si gioca il terzo posto con la Ferrari di Vettel, Leclerc che quinto a 57 è stato l'unico che ha provato nei primi 10 giri a dare un po' di pepe a una gara che francamente è di una noria mortale, poi vabbè c'erano i commentatori che bello che bello io non so cosa ci sia di bello a vedere due piloti che si inseguono senza avere la minima probabilità di riuscire a sorpassarsi a meno che non fai un miracolo come ha fatto Leclerc che gliene è riuscito uno quando ha sorpassato appunto Grosjean in un punto pazzesco, ne ha sorpassato un altro in un altro punto pazzesco ma poi dopo si è toccato, la terzo tentativo si è toccato con Hulkeberg e ha riperso tutto quello che aveva guadagnato. Comunque poi la classifica prosegue con Gasly a 32, Sainz a 18 e Magnussen a 14. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio, speriamo che il prossimo Gran Premio sia un attimino più avvincente almeno per i sorpassi anche se si sorpassano per il quinto, sesto, dodicesimo posto non mi interessa basta che si veda un po' di lotta vera, un po' di sorpassi e controsorpassi perché di vedere la gente che tinta vanamente di sorpassare dove non è possibile, è tristissimo. Poi Monte Carlo ha il suo fascino, quindi tanto di cappello, però permettetemi di dire che a me fa cadere i maroni. Detto questo vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo ai prossimi video e scusate il ritardo ma il pensiero di stare a rivedermi tutta la gara e farvi la cosa di un Gran Premio che non mi piace è più forte di me, quindi ho soprasseduto come si suol dire. Ciao!